oppure la moda la medaglia roll fa il valore ma cosa gioca con due bar ma dai che citer ci devo giocare con lui giochiamo a Sinai Top 5 devi giocare come ti chiami? come hai scritto? l'infermatore 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 c'è tempo? Sì, guardi. Di forle presa. Ti vanno a passi colpi a corre. Non hai sguardo? Guarda, guarda che bello kilt. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.